numero 5 armadio multiuso portascope realizzato in plastica riciclata ideale per interni ed esterni resistente ai raggi solari e alle intemperie possibilità di chiusura in sicurezza grazie ad un foro per lucchetto facile da montare grazie a poche parti ad incastro e istruzioni chiare ottimo rapporto qualità prezzo disponibile nel colore grigio tortora con rifiniture nere se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 armadio portascope linea excellence dal design elegante questo articolo risolve ogni problema di spazio dotato di scaffali regolabili con portata massima di 25 kg con possibilità di chiudere le ante con un lucchetto non incluso nella confezione l'armadio misura 182 centimetri di altezza adatto sia ad ambienti esterni che interni acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 armadio portascope in plastica doppia anta multifunzione grazie ai 4 ripiani regolabili all'interno realizzato in plastica riciclata effetto legno dal design moderno il colore grigio tortora si adatta perfettamente al giardino apertura semplice e sicura l'armadio è dotato di predisposizione per il lucchetto non incluso nella confezione ideale per l'esterno ma anche per interni come cantine garage se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 armadio portascope dal design elegante ideale per esterno realizzato in plastica di ottima qualità pensato per risolvere problemi di spazio all'interno oltre al vano regolabile portascope è dotato di 8 ripiani i piedini del mobile sono regolabili per organizzare meglio lo spazio i materiali di cui è composto sono resistenti alle intemperie il mobile è adatto a terrazzi cantine lavanderie possibilità di fissare l'armadio al muro le viti e i tasselli non sono inclusi nella confezione ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 armadio portascope a due ante con quattro ripiani in stile moderno effetto legno il mobiletto è realizzato in plastica di ottima qualità resistente agli agenti atmosferici ottimo prodotto misura 164 centimetri di altezza 79 di lunghezza e 43 di profondità ideale per esterno e interno puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione